E-X3 è la prima BMW X full electric con un'autonomia di 458 km. Con l'app MyOpel si può dialogare con la propria auto sia con Android che con iOS. Si innova lo scooter Beverly Piaggio, design sportivo e frontale ridisegnato. La BMW i-X3 unisce l'efficienza del motore elettrico con le doti sportive che contraddistinguono BMW. La i-X3 in 6,8 secondi raggiunge i 100 km orari. La velocità massima di 180 km orari è elettronicamente limitata. Il contenuto energetico è di 74 kWh con un consumo di 18,6 kWh ogni 100 km ed un'autonomia di 450 km. innovativo e recupero adattivo dell'energia. È il primo modello del marchio ad essere costruito nello stabilimento di Shenyang in Cina e è già nelle concessionarie italiane ad un prezzo base di 69.900 euro. Dialogare con la propria auto? Oggi si può con l'app MyOpel. Viene ad aprirsi l'era delle gestioni funzionali gestite da smartphone con i modelli elettrici ed ibridi plug-in. Questa app è disponibile sia per la piattaforma Android che iOS. Si può controllare la carica della batteria o avviare la ricarica mentre la vettura è allacciata alla presa di alimentazione. I modelli elettrici Opel consentono di avere un contatto con l'officina controllando la manutenzione effettuata o di prenotare altri interventi. Il mitico scooter Beverly della Piaggio, lanciato nel 2001, cambia look. Design sportivo, frontale e ridisegnato, forme morbide e sinuose e inediti motori da 278 e 299 cc con potenze di 19 e 26 kW. Consumi intorno ai 30 km al litro, fanalleria full LED, strumentazione digitale LCD e multifunzione, sistema keyless, nuovi cerchi ruota, sella ancora più comode e rivisti i comandi al manubrio. Uno scooter ideale per ogni utilizzo, urbano ed extraurbano. Due gli allestimenti, Beverly e Beverly S.